Sicuramente i primi dieci minuti lo sono stati, il direttore si prende la responsabilità dimostra che è una persona seria, una persona che sa fare il suo mestiere, ha messo la sua faccia davanti, però questo non vuol dire che non dobbiamo metterci anche noi, io per primo, perché le scelte dei giocatori le faccio io. Quindi sicuramente i primi 15 minuti eravamo preparati a non farla questa cosa, infatti la cosa che mi fa arrabbiare è perché se ne era parlato tanto di questa cosa, quindi dobbiamo lavorarci, credo che non abbiamo vinto un duello o una seconda palla per almeno 15 minuti, questo ci ha fatto sì che partissimo con un handicap che poi ci ha condizionato alla fine tutta la gara. Sì, in realtà il gol del 2-1 l'abbiamo fatto poco prima del cambio, poi abbiamo cambiato lo stesso, abbiamo in mente questo cambio, abbiamo cambiato lo stesso, abbiamo creato 3-4 palle gol pulite, due solo davanti al portiere, però con i 6 e i ma non si fanno i risultati, quindi non abbiamo realizzato quando dovevamo e alla fine quando perdi 4-1 hai poco da dire e poco da recriminare, devi solo chiedere scusa per la prestazione e cercare di capire cosa non è andato e lavorare su quello.